C'è Mazzoni Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata fantastica Sono molto emozionata, non volevo dirlo, però sono emozionata perché nel pubblico ci sono delle persone che amo quindi l'emozione gioca a ruolo importante In primis volevo ringraziare tutta l'organizzazione, il team, la giuria, il pubblico di Miss Italia per l'opportunità di essere qui, soprattutto qui a Torbella Monaca Ieri con il presidente in conferenza stampa abbiamo parlato di quanto fosse importante valorizzare le periferie e soprattutto un gemellaggio che ci sarà tra Scampia e Torbella Monaca Io mi sento anche un po' parte integrante di questo progetto per due motivi principali In primis perché ho origini anche il 50% napoletane e poi perché vengo da una periferia che si trova tra Quartaccia e Prima Valle quindi più o meno al nord di Roma e parlando con l'organizzazione quando sono venuta qui ti danno insomma la possibilità di presentarti, di farti conoscere meglio e quindi ti danno la possibilità di ballare, cantare, recitare o parlare di loro Per vostra fortuna non canterò non ho questo talento non sono stata così fortunata nella vita però parlerò di me sono Beatrice Mazzoni, ho 20 anni, sono nata e vivo a Roma studio comunicazione pubblica e di impresa alla Sapienza e diciamo per me quest'anno è stato super produttivo sia a livello personale che a livello lavorativo ho fatto uno stage di sei mesi in una tv nazionale come redattrice e insomma mi ha cambiato anche le mie prospettive future quindi mi auguro per me e per tutte le persone che sono qui, piccole e più grandi di poter realizzare sempre i propri giorni